In diretta con noi il tecnico Torrente, buonasera mister. Allora, la prima considerazione che voglio farle è i complimenti per la squadra che abbiamo visto in campo, aggressiva per quasi 90 minuti, ha messo in difficoltà il Pescara che ieri lei in conferenza aveva detto essere una delle candidate a vincere il campionato. Dov'è stato bravo il Gubbio? È stato bravo a pressare il Pescara, a giocare, poi oggi siamo partiti con un sistema di gioco diverso, abbiamo attuato un 3-4-3, abbiamo giocato a uomo a tutto campo, quindi i ragazzi hanno interpretato bene, hanno fatto una grandissima prestazione contro una squadra forte come il Pescara. E' arrabbiato alla fine per la mancata vittoria perché segna un quarto d'ora della fine, ci ha fatto l'acquolina in bo. Sì, diciamo di sì, soprattutto mi dispiace per i ragazzi perché sicuramente meritavano questa vittoria, ma è venuta fuori poi la qualità del Pescara, è una grande giocata, quindi siamo contenti della prestazione e anche del risultato. Prima di una domanda da studio voglio chiederle se ieri l'aveva detto un po' a posto in conferenza, cosa c'entra Galano con la categoria, Autari non l'ha fatto giocare neanche un secondo. No, io confermo, Galano non c'entra niente con questa categoria, io ho avuto il piacere e la fortuna di allenarlo per tre anni, un anno a Gubbio da giovanissimo e due anni a Bari e posso confermare che è un giocatore straordinario che non c'entra niente con la Serie C, è un giocatore che per me deve giocare O in B. L'ultima simpatica, lei ha giocato un anno con Autari, mi ricordo bene a Genova nel 1985, quanto era bravo Autari da allenatore e quanto lo metteva in difficoltà da attaccante e quanto da difensore lo metteva in difficoltà? Ma io ero bravo come difensore, quindi... Per 15 anni è stato a Genova, a Bandiera. Quindi ero bravo, per lui era difficile. Una domanda da studio, ci abbiamo strappato un sorriso a Torrente. Sì, allora la faccio fare a Fabio Ferraresi. Io, mister, le vorrei fare i complimenti perché accettare di giocarsi una partita a viso aperto con il Pescara e quindi giocare a uomo a tutto campo e comunque accettare sempre l'uno contro uno con una squadra che ha dei valori tecnici sicuramente più importanti rispetto alla vostra squadra. È sinonimo che lei ha delle idee che io condivido, cioè quelle di giocarsi sempre la partita con tutti e questo atteggiamento sicuramente porterà questa squadra a fare un campionato importante e secondo me lei è un allenatore che meriterebbe anche altri palcoscenici, quindi più che una domanda, la mia è la considerazione. Allora, la considerazione e il complimento che le fa Fabio Ferraresi da studio e che fa i complimenti perché, viste le qualità del Pescara, lei non ha avuto paura a mettersi all'uno contro uno, quindi 3-4-3 a uomo a tutto campo. Fa i complimenti, dice che farà anche categorie superiori come allenatore. Sì, ho avuto già il piacere di farlo, spero di ritornarci perché il mio obiettivo è questo, quello di ritornare ad allenare in B. Enrico, una curiosità. Quindi sono contento, lo ringrazio e ripeto, i complimenti vanno poi condivisi con i ragazzi che veramente hanno dato l'anima e hanno disputato una grande partita. Una curiosità da studio, poi la saluto io con una battuta. Vai Massimo. Ecco, velocemente al mister perché è andato vicinissimo alla panchina del Pescara nell'estate 2013, poi fu scelto Marino, però sappiamo chi ha incontrato Repetto allora, direttore sportivo del club Bianchezzurro. Le ricordiamo una cosa, 2013 lei incontrò il DS del Pescara a Repetto, poi fu scelto Marino, ma è stato un passo dalla panchina del Pescara. Confermo. Conferma? Sì. Mai dire mai allora in futuro. Mai dire mai, esatto. Le chiedo io l'ultima cosa, lei ha incontrato la Reggiana 0-0 se non ricordo in questo campionato e questa sera il Pescara. Domenica ci sarà questa sorta di big match allo Stadio Triatico. Caratteristiche migliori dell'una e dell'altra, come la legge questa partita? Ma il Pescara credo abbia molta più qualità, un po' in tutti i reparti, soprattutto del centrocampio in avanti. Anche la Reggiana è un'ottima squadra, è un'altra squadra che gioca un 3-4-3, anche loro ad uomo. Sono due squadre costruite per vincere, ma io credo che il Pescara abbia qualcosa in più rispetto a tutte le altre. Abbiamo incontrato anche l'Intel, abbiamo incontrato il Cesena. In questo momento credo che il Pescara ha delle individualità di spicco. Grazie.